Non l'ho mai conosciuto mio padre, è morto quando io ero piccolo e ho sempre cercato di vedere i suoi video, foto per sapere com'era Infatti ogni volta che mi specchio cerco di cambiare la mia immagine per vedere lui Ho anche cercato di conoscere gente che lo conosceva, anche se però non tutti avevano voglia di parlare di lui È difficile, è difficile perché non so se ora sono come lui vorrebbe L'unica cosa che posso dire è che mi sarebbe piaciuto avere lui come padre E non mi hanno certo influenzato sulla mia idea che mi sono fatto di lui tutte quelle persone che dicono che non è bravo, era una brutta persona Mi dispiace molto Ciao papà Ti voglio bene